Un temporale piuttosto forte ha colpito purtroppo all'alba di oggi la città di Roma, capitale d'Italia. Intorno alle 5 del mattino la pioggia è iniziata a cadere in maniera abbastanza evidente, molte strade sono rimaste allagate, il vento forte che ha creato la caduta di molti alberi, uno soprattutto ha creato un danneggiamento a Monteverde, pregiata zona di Roma capitale. Precisamente proprio in via di Monteverde, all'attezza della chiesa di San D'Amaso o D'Amaso. E' stata emessa un'alerta di tipo giallo per colpa di precipitazioni che sono previste tra oggi e domani. Nell'Azio infatti ci saranno delle precipitazioni isolate o a carattere sparso, anche diciamo così rovesci, in fase diurna, non soltanto notturna. Insomma, finalmente sono arrivate le piogge a Roma, io nella regione Lazio e finalmente le piante possono, tra virgolette, ritornare ad una condizione di, chiamiamolo, benessere, di pieno relax, anche perché un po' d'acqua fa sempre bene. Inoltre il Tevere può, diciamo così, vedersi aumentare le sue dimensioni, o meglio il suo livello, visto che è considerato che per troppo tempo era il basso nel livello. Detto questo, grazie a tutti voi, cari utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi al canale Narrato Italiano e commentate. Se abiliate a Roma, ditevi se ne avete visto o no questo più lento dubbifragio, questo temporale. Un saluto caro e al prossimo video.